Andiamo alle questioni condominali, perché ce ne sono veramente di tanti, a parte l'eco bonus di cui abbiamo più volte parlato, però ci sono delle questioni che ovviamente vanno sempre discusse. Saluto il dottor Angelo Anzalone, responsabile della Commissione Proviviri della FIAC a sua impresa, e l'avvocato Marco Allegra, direttore del Centro Studi della FIAC a sua impresa. Ben trovati entrambi? Buonasera, ben trovati in tutti. Allora, abbiamo sicuramente, insomma, intanto di fare un piccolo punto, anche se sento un fruscio sotto, non so se è dalla regia, lo sentite anche voi? Lo sentite? Sì. Allora, non so se avete delle finestre aperte, mi dicono dalla regia, no? C'è un fruscio, più un fruscio audio che altro, ho questa sensazione. Allora, sentiamo intanto, proviamo intanto ad entrare nell'argomento delle questioni condominali e soprattutto provo a chiedere, adesso non c'è più, provo a chiedere al dottor Anzalone se evidentemente ci sono delle novità, delle notizie che vanno a informare tutti gli amministratori condominali e i condomini di conseguenza. E' il dottor Anzalone che, allora, tolga le cuffie dal microfono, vediamo un attimo perché probabilmente è quello che fa, no? Proprio lo stacchi, stacchi le cuffie? Stacchi le cuffie? E' come quelle dell'avvocato... E vediamo, ci penterà mia moglie come regalo... No, l'avvocato, l'avvocato ha deciso di regalarle le cuffie questo Natale. Non mancherò. Visto? E l'ho fatto guadagnare quest'oggi. Allora, novità, dottor Anzalone? Stavamo anticipando una novità abbastanza recente che è quella della pubblicazione in gazzetta ufficiale con decorrenza 4 dicembre 2020 della modifica del sesto comma dell'articolo 66 della disposizione e attuazione del codice civile che in luogo di una precedente modifica a gente rivenuta ad agosto ha sostituito la possibilità di convocare le assemblee online non più con la preventiva autorizzazione dell'unanimità dei condomini ma con il previo consenso della maggioranza. Quindi l'amministratore può convocare un'assemblea che preveda la partecipazione online acquisendo preventivamente l'autorizzazione della maggioranza dei condomini ovvero previa modifica del regolamento condominiale. Io vorrei puntualizzare l'aspetto su questo concetto della partecipazione. Il legislatore ha inteso, secondo me, puntualizzare appunto il concetto di partecipazione perché comunque non parliamo di un'assemblea che deve essere tenuta esclusivamente online ma l'amministratore o chi convoca l'assemblea deve dare la possibilità ai soggetti che ne hanno diritto di poter partecipare all'assemblea online. Quindi nella fattispecie bisogna, si parla di assemblea mista, cioè con partecipazione online per chi non può partecipare in presenza e in presenza per tutti gli altri. È chiaro che qua si aprono tutta una serie di problematiche organizzative che, secondo il mio parere, danno la possibilità di poter attuare questa norma soltanto nei condomini dove c'è un numero di partecipanti abbastanza limitato. E mi permetta di dire, dove c'è anche una sala assemblea che è già organizzata per fare i collegamenti online. Tutto questo secondo me nei condomini vattene la pesca. Già non mi cambiano le lampadine, figuriamoci. Sa che le lampadine me le cambio io nel mio condominio, vado lì, la compro. E che devo fare? Devo chiedere all'amministratore la prima, la seconda, la terza volta, poi la quarta volta prendo delle lampadine e le cambio. Non credo che in smart working si possano cambiare le lampadine. No, infatti mi viene difficile. No, ma sa che cos'è il problema? Il problema è che veramente non siamo strutturati nei condomini per avere una sala assemblea organizzata e poter fare il distanziamento, poter fare insomma... La sala assemblea va trovata anche al di fuori del contesto condominiale, va in affitta delle sale specifiche, dove all'interno delle quali si può mantenere la distanza. È stato calcolato che è necessario almeno due metri quadri per potenziale partecipante, quindi un condominio di 30 unità immobiliari, 30 partecipanti al condominio, deve avere la disponibilità di una sala mediamente intorno ai 100 metri quadrati, perché poi bisogna considerare anche le aree di transito, bisogna che la sala sia... Sanificata, bisogna anche sanificata. Sanificata prima, sanificata dopo. Diciamo che è molto problematica la cosa. Non so se l'avvocato a Lega vuole mettere a disposizione i suoi studi per le assemblee, insomma, fare un calendario... Dica. No, no, dico la rappresentazione del dottor Lanzano è stata eccellente. Posso aggiungere che viene rintrodotta con questa normativa la figura del Presidente, che era sparita nella riforma del 2012. Il Presidente nell'assemblea online deve sottoscrivere il verbale redatto online dal segretario e inviarlo nelle stesse forme di convocazione dell'assemblea. Cioè si dovrà indicare una piattaforma elettronica. Oggi sappiamo che ce ne sono moltissime, sono tutte efficienti, Zoom, Skype, dico... Ce ne sono veramente... Quindi va indicata la piattaforma elettronica e il Presidente dovrà sottoscrivere il verbale, ovviamente digitalmente. Questo apre il varco a requisiti di formalità del verbale assembleale, perché la Cassazione prevedeva che il verbale doveva essere sottoscritto al Presidente ai fini soltanto probatori. Oggi potrebbero esserci dei requisiti di sostanza, visto che si prevede la firma. Quindi un verbale non firmato potrebbe essere annullabile. Purtroppo le norme creano sempre dei... Dobbiamo tenere in considerazione dei tanti anziani che uno, non possono andare alle assemblee, perché sono soggetti fragili, ancora di più, no? E due, questi mica hanno il computer, hanno Zoom o Skype, eccetera, eccetera. Noi abbiamo il paese più longevo del mondo. Mi piace dire longevo. Infatti, come diceva il dottor Anzalone, è a partecipazione. Però dobbiamo considerare che questo consente di partecipare ai soggetti che stanno fuori. Spesso ci sono delle persone che abitano a Milano, a Torino, hanno immobili in altre città. Gli amministratori palmitani spesso sono costretti a convocare assemblee. Ma mi viene da chiedere, come condomino, mi viene da chiedere, ma io se non sono in grado di potermi collegare online per l'assemblea condominiale, posso delegare qualcuno? Certamente. Ecco. Ecco. Allora la soluzione è quella. Però chi si fida dei propri vicini? Si può delegare anche un terzo che non è un vicino. Ah sì? Spesso gli avvocati vengono nominati delegati all'assemblea. Oppure anche il proprio commercialista. Una persona qualifica. Il proprio commercialista, sì? Sì. Poi ci sono dei limiti di numero che sono collegati a edifici di una certa entità di immobili. Quindi anche questo diciamo che è una cosa positiva. Mi giunge notizia che l'eco bonus sta marciando, perché già in Sicilia alcuni lavori sono addirittura partiti. Questo vuol dire che le pratiche stanno camminando, Anzalone? Sì, guardi, proprio oggi in nostra contemporanea sta avvenendo l'inaugurazione del primo cantiere relativamente ad un edificio condominiale dove si stanno appunto per iniziare i lavori di efficientamento energetico previsto dal cosiddetto super bonus. è una novità che speriamo possa essere seguita da un'attuazione ben più massiccia rispetto a quella che abbiamo avuto sino adesso. Ci siamo un po' tutti nel nostro settore e ci aspettiamo una proroga dei termini che sono previsti perché allo stato attuale il termine è il 31 dicembre 2021. Tutti noi sappiamo che lavori che riguardano le parti comuni condominali in un aspetto così importante come quello del rifacimento dell'involgo esterno dell'edificio fatti nella modalità per la quale è previsto il super bonus sono lavori che prevedono una tempistica molto più lunga sia in termini di progettazione, di fattibilità e anche di realizzazione. Ecco, è tre mesi circa che parliamo di questa proroga ma come mai si bloccano queste cose, Avvocato Allegra? No, ma questa è una questione politica è nell'aria e prima o poi ci sarà perché si ritiene che verrà data. In questo momento nella legge di bilancio non ce n'è traccia quindi c'era un po' di preoccupazione però è fino a dicembre 2021 quindi potrebbe essere prevista nella legge di bilancio dell'anno prossimo quindi magari ce lo diranno all'ultimo però verrà preannunziato, suppongo quindi c'è la possibilità che succeda anche se non succede adesso Lei è fiducioso insomma su questa proroga? Sì, sì, io sono fiducioso Anche Anzalone, anche lei Anzalone, sì Il super bonus è un po' un cavallo di battaglia di quello che è stata l'attività del governo in questi mesi quindi io penso che farlo morire entro il 2021 sarebbe una scelta anche in prospettiva secondo me sbagliata perché se l'obiettivo è quello di facilitare lo sviluppo dell'economia e in particolare nel settore dell'edilizia dare un termine così perentorio diventa un po' di difficile attuazione per cui io penso che come diceva giustamente l'avvocato politicamente l'idea se rimane questo governo che il problema potrebbe anche essere questo è quella di puntare molto su questo provvedimento normativo lasciamo perdere poi tutte quelle difficoltà che ci sono in termini di attuazione ma è chiaro che quando si fa una legge in termini teorici vale per tutti poi nella realtà ci saranno casi dove si può mettere in atto e casi dove non sarà possibile farlo Va bene, allora intanto volevo raccomandare ai nostri amici telespettatori di non chiamare al numero Whatsapp ma al numero fisso lo 091-333-660 perché continuano ad arrivare telefonate sul numero 391 quindi chiamatelo 091-333-660 perché subito dopo questa brevissima pausa facciamo un po' di telefonate e accontentiamo un po' di telespettatori restate con noi, torniamo tra pochissimo Grazie ai tanti telespettatori che ci stanno scrivendo ci scrivono, ci telefonano per farci gli auguri di buone feste quindi noi ricambiamo insomma in tutti cominciamo questo lungo percorso del buone feste che quest'anno saranno sicuramente diverse almeno da quelle che abbiamo già trascorso Allora, il condominio risponde questioni e soluzioni possiamo dare il via a naturalmente una serie di questioni che ci sono arrivate sia attraverso post ma avete a disposizione come vedete anche in sovrimpressione il numero di telefono che è lo 091-333-660 e abbiamo in diretta due esperti che sono il dottor Anzalone responsabile della commissione Proviviri della FIAC Asso Impresa e dell'avvocato Marco Allegra dunque se avete bisogno di qualche consiglio insomma all'avvocato lei ha questioni in sospeso in questo momento che sta seguendo avvocato? ce ne dica una carina, simpatica per esempio di carico in questione la condominiale c'è ben poco va bene, ce ne sarà qualcuno un po' più strano un po' più da... ci sono... che contenziosi abbiamo insomma abbiamo... i contenziosi variano veramente in materia condominiale a parte quello delle quote che ci sono i condomini che non pagano però visto il momento purtroppo per esempio lei cosa fa? fa azioni legali di buonsenso in questo momento? c'è una norma che è nata nel 2012 che ha stabilito che l'amministratore ha l'obbligo di consegnare ai creditori l'elenco dei millesimi l'elenco dei morosi spesso capita che l'amministratore o non è in condizione di consegnare l'elenco dei morosi perché magari le quote non sono così precise nella sua amministrazione o perché fa resistenza di altro tipo sono altre delle cause per la consegna dell'elenco dei millesimi queste cause sono estremamente gravose perché i creditori chiedono anche la sanzione per una norma del diritto processuale che può consentire una sanzione di anche 100 euro al giorno in caso di mancata consegna di questo elenco dei morosi quindi questa è una fattispecie del tutto particolare che mette in difficoltà la compagina condominiale quando l'elenco dei morosi per varie sfaccettature è difficile da consegnare Dottor Anzalone lei ha invece qualche caso che sta seguendo con attenzione che ci può riportare? Allora per noi amministratori di condominio ne sentiamo non una ma dieci al giorno forse quindi ne potremmo raccontare Siete come i medici di famiglia praticamente ma io oggi dico senza fare nomi o fare riferimento a che che sia una telefonata di un condomino che accusava un altro condomino di una condotta scorretta o errata dopo dieci minuti chiamo l'altro condomino e lui dice perfettamente il contrario e questa è secondo me emblematica perché purtroppo in ambito condominiale i contrasti interni tra condomini forse sono l'aspetto più difficile a gestire per l'amministratore Ma scusate non abbiamo avuto il lockdown e il covid non dovevamo essere tutti migliori? Dopo il covid? No Come dicono gli esperti in psicologia penso che il covid abbia aggravato la situazione la situazione psicologica delle persone Vabbè ma le contraddizioni sono come al governo io infatti ho sempre paragonato il condominio al governo dove c'è chi governa e l'opposizione c'è sempre una contraddizione uno dice una cosa l'altro ne dice esattamente l'opposto ormai ci siamo abituati Allora vi giro intanto una serie di post che sono arrivati e partiamo da questo sono Raffaella che è da Catania volevo sapere se il mio amministratore può permettersi il lusso di affiggere ecco a proposito di quella cosa ecco perché mi era venuta la domanda affiggere l'elenco dei morosi in portineria no ecco è assolutamente vietato si può essere aggravati di una causa di risarcimento del danno perché la portineria è il luogo di accesso di utenti terzi quindi non si può affiggere l'elenco dei morosi dovrebbe essere tutta dalla legge sulla privacy si viola gravemente la privacy e si può seriamente danneggere un condomino mentre invece si può distribuire l'elenco dei morosi in sede di assemblea condominiale perché è tra i condomi stessi che si svolge la problematica economica quindi in quella sede l'amministratore può dire chi sono i morosi ma mai affiggerlo all'interno dell'atrio però se basta dirlo al portiere così lo sanno tutti insomma poi alla fine il portiere è una bella storia e infatti perché mi è venuto il portiere? perché c'è un altro posto dunque che scrive nel nostro condominio siamo circa 40 appartamenti abbiamo un portiere che non fa le pulizie si limita agli orari anzi molto spesso lascia la portineria chiusa e noi dovremmo riuscire a licenziarlo possiamo fare una mozione ecco vedi il governo possiamo fare una mozione all'amministratore? non lo so provo a rispondere io lei è un avvocato l'amministratore è un esecutore delle delibere assembleare quindi sono loro stessi che possono deliberare il licenziamento del portiere ovviamente bisogna vedere se il contratto prevede ecco qui dovrebbe subentrare un consulente al lavoro mi sa no? prevede esatto che debba fare le pulizie credo che i contratti dei portieri questo forse il dottor Anzalone non lo potrà dire in parte lo prevedono ma andrebbe anticipato da alcune contestazioni disciplinari la normativa del lavoro è insomma altamente tutela al massimo il lavoratore non si può licenziare così a tenuto un lavoratore ci vogliono delle giustificazioni e delle prove provate anche suppongo la contestazione sul comportamento del portiere o sulla mancata esecuzione di quelli che sono i compiti ovviamente va fatta nelle forme previste dal contratto nazionale quindi con, se non erro, dovrebbero essere almeno tre contestazioni emarginate direttamente al portiere per iscritto e dopodiché si potrebbe anche procedere però è chiaro che diventa anche un qualcosa che è facilmente un qualcosa che è facilmente impugnabile perché come diceva giusto l'avvocato va beh fatemi sentire qualche telespettatore così accontentiamo un po' tutti pronto chi è in linea? con chi parliamo? pronto? pronto? salve con chi parliamo? da dove ci chiama? salve io sono Cristina Andolino da Palermo bene prego volevo sottoporvi una questione perché cercando in rete non ho trovato granché la questione è questa nel condominio dove abito abito al primo piano peraltro Casemia corrisponde esattamente sopra l'androne nel quale esiste un armadio con i contatori dell'acqua ai quali molti dei condomini hanno attaccato delle pompe elettriche per tirar su l'acqua i piani più alti queste pompe però hanno una rumorosità eccessiva tant'è che li sentiamo sentiamo molti di questi sia durante il giorno che anche durante la notte e quindi ci chiedegamo insomma il mio merito cosa è possibile fare? abbiamo ipotizzato un'eventuale insonorizzazione di questo armadio e faccio dare risposta dal dottor Anzalone ascolti beh assolutamente sì la prima cosa da fare è quella di tentare buonariamente con i condomini che dispongono di questi motorini di farli sostituire con dei motorini più silenziosi o come diceva giustamente la signora provvedere ad insonorizzare l'armadio contatori partiamo da un presupposto i contatori molto spesso si trovano all'interno dell'androne ma chi li ha collocati ovvero l'ente acquedotto non ha detto che bisogna mettere i motorini quindi i motorini sono un qualcosa in più per risolvere un problema di pressione e quindi diventano dopo un problema si potrebbe chiedere per esempio al condominio di richiedere all'acquedotto lo spostamento della colonnina che contiene i contatori se tutto ciò non porterà per la signora il beneficio che richiede a quel punto potrà agire legalmente previa perizia acustica per verificare se il rumore provocato da questi motorini supera la soglia di tollerabilità e allora a quel punto potrà richiedere giustamente al giudice un provvedimento che risolva definitivamente la questione va bene andiamo avanti un'altra telefonata non abbiamo tantissimo tempo pronto chi è in linea con chi parliamo pronto pronto salve con chi parliamo da dove ci chiama io mi chiamo Cucinote e chiamo da Spadafore in provincia di Messina bene prego dica praticamente si tratta di questo dovrebbe dire c'è l'ascensore che parte dal mio piano sì quindi sono costretto a pagare la manutenzione e così via perché non lo prendo per niente io l'ascensore non c'è un motivo di prenderlo ecco magari così per andare ogni tanto entra e esce dall'ascensore ma non di più diciamo no no l'ascensore non ha importato per me non lei non lo tocca neanche non lo tocca neanche assolutamente assolutamente giusto prego dottor Anzalone o l'avvocato dica lei no può rispondere Anzalone dica dica è uguale è avvocato faccia lei no facciamone un ping pong così andiamo veloci prego intanto vorrei sapere a che piano abita il signore a che piano abita piano rialzato parte da là piano rialzato sì sì parte da là ecco l'ascensore parte da là sì ma non dovrebbe esserci una tabella ascensori che fa gravare il piano rialzato di di una quota condominiale a meno che non ci siano tabelle ascensori cioè se parte da lì io credo che proprio non non debba provvedere al pagamento non ne usufruisce ma se non ne usufruisce per niente ha detto esatto esatto se non va al suo piano non può esserci una tabella ascensore che lo gravi quindi non deve pagare insomma ah ho capito va bene se loro insistono posso posso rifiutare la loro richiesta le hanno fatto una richiesta scritta chiede la no 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 come richiesta scritta no assolutamente no 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 le hanno detto cd a 200 euro così ho capito però lei non deve pagare va bene va bene la ringrazio infinitamente grazie a lei massi figuri per carità e vabbè anche queste sono le problematiche possono ma non c'è una regolamentazione precisa è possibile che in un caso del genere non ci sia una tabella specifica per l'ascensore i condomini pretendano la divisione delle spese comuni tra tutti chiedendola ingiustamente a un soggetto che sta a piano terra e quindi non può non può mai usufruire l'ascensore quindi non credo che ci sia un condominio che gravi delle spese dell'ascensore di chi sta a piano terra quindi è già inusuale che gli richiedano sti soldi nel diritto condominiale le spese si dividono in proporzione all'uso cioè se io non lo uso come faccio a pagarlo? sentiamo che Anzalone forse voleva aggiungere qualcosa beh ci sono degli elementi che potrebbero anche sfuggere alla nostra analisi per esempio la possibilità di utilizzare l'ascensore per accedere ad una una ad un tetto condominiale dove si deve dove può essere utilizzato come stenditoio oppure una terrazza comune lei dice esatto e quindi il nostro amico va lì potrebbe avere anche una funzione comune per la quale il condomino a piano terra comunque potrebbe essere chiamato ad utilizzare potrebbe avere beneficio ad utilizzare l'ascensore e poi un piano solare per prendersi il sole che ne so esatto potrebbe esserci qualche servizio condominiale che si trova nei piani l'avvocato allegra ride perché io ho sempre queste cose beh io sono un condomino ha capito per cui cioè io trovo delle cose da condomino mica da amministratore perché io dico se ho la terrazza lì sopra e posso andarmi a prendere il sole prendo l'ascensore mica me la faccio a piedi perché arrivo lì senza fiato giusto no mi sono immaginato un giardino condominiale con tanta sedia sdraio dove i comprati eh ma qui finiremo eh perché con il covid guardi che ormai siamo lì al distanziamento dell'esdraio in terrazza al massimo con le piscine in plastica piene d'acqua quello faremo va bene chiudo qualche minuto prima oggi anche perché abbiamo degli altri impegni di programmazione però credo che siamo stati abbastanza se non ci sono altre telefonate in sospeso fermatevi qua ecco perfetto fermiamoci qua per il momento quindi vi ringrazio FIAC che Anzalone ci sono corsi di formazione vogliamo ricordare che chiaramente la federazione è una federazione che permette a chi volesse intraprendere questa professione di diventare amministratori condominiali con una professione ben definita è chiaro praticamente che la FIAC organizza dei corsi saranno pubblicizzati per poter partecipare ai corsi sono necessari alcuni requisiti sarà compito di chi provvederà ad organizzarli a pubblicizzarli in maniera più opportuna vabbè poi ci siamo noi insomma non le bastiamo voglio dire noi facciamo facciamo questo il presidente me ne darà comunicazione alla prima diretta tv diremo anche i corsi di formazione come si fa a diventare amministratori condominiali va bene grazie avvocato Allegra mi raccomando grazie a voi quest'anno non si va a sciare quindi resti lì tranquillo deponga i suoi sci il PM ci ferma infatti ho intuito grazie anche al dottor Anzolone alla prossima settimana sempre con il condominio risponde grazie grazie a tutti grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie.